Abbiamo vinto... Visto che c'ho l'intervista a lei, ti dispiace fare i cazzi tuoi? Hai preso anche questo? Bravo, metterlo! Perché dietro, dalla vergogna, allora Jack Pagna direbbe Che toppa! Com'è andata? Malissimo, malissimo, ancora peggio di quello che io temevo Perché non solo abbiamo perso i capoluoghi di regione Ma abbiamo perso anche i capoluoghi di provincia Quindi è stata una debacle per il centrodestra sotto tutti i punti di vista E devo anche dire, premesso che io sono di centrodestra, che ci sta bene Sta bene questa sconfitta a Salvini e sta bene a Lameloni Perché è evidente che hanno sbagliato tutto nella loro strategia politica In primo luogo hanno sbagliato la scelta dei candidati Perché hanno deciso di candidare persone per bene, assolutamente irreprensibili Ma sconosciute al pubblico E perché hanno deciso di candidare persone, candidati civici? Perché quelli politici, quelle persone che avevano spessore politico Non si sono fidate né della Meloni né di Salvini E non si sono voluti candidare Prendete un Albertini a Milano, un Bertolaso a Roma Che se queste persone effettivamente avessero accettato la candidatura Sicuramente avremmo vinto in queste due grandi città Quindi il primo punto è questo Il secondo sbaglio è questa continua lotta tra Lameloni e Salvini Per la leadership del centrodestra E questi due non hanno capito che se continuano a fare così Non si parlerà di leadership perché il centrodestra scompare L'unico vincitore di questa tornata elettorale è stato Berlusconi Il quale ha candidato a Trieste Il candidato che era già, so se ceci, 15 anni Però a Trieste il partito che ha presso di più è Fratelli d'Italia Sì, però il candidato l'ha scelto Berlusconi Quindi vuol dire che era un candidato valido Per quanto riguarda la Regione Calabria Lo stesso è un candidato di Berlusconi Per il resto abbiamo perso da tutte le parti Quindi o Lega e Fratelli d'Italia decidono di cambiare strategia Di diventare un monolite e di smetterla soprattutto con questo Green Pass O altrimenti spareranno Perché anche questa guerra al Green Pass Questi non hanno capito che l'80% dell'elettorato di centrodestra È per il Green Pass Addirittura è anche per la vaccinazione obbligatoria Quindi tutti e due hanno cavalcato quella minoranza Quel 15% di dissenso per far che cosa? A che cosa gli è servito? A niente A perdere e basta Quindi o questi si mettono nell'ordine di idee Di dare una risposta credibile al nostro elettorato Altrimenti perderemo anche le elezioni Perché Letta, che a me mi sta veramente esoso Quel chierichetto spretato come lo dico io Che ha fatto? Ha cantato vittoria Ha vinto È vero che nessuno è andato a votare Quindi lui non è che ha vinto il PD Hanno vinto perché il centrodestra Gli elettori di centrodestra non sono andati a votare Altrimenti non avrebbe vinto Però di fatto tutte le grandi città I capologhi di provincia ce l'hanno loro E di fatto amministrano loro Quindi io sono molto arrabbiata Sono molto delusa E capisco Leo Devo dire la verità quando dice non vado più a votare Ha perfettamente ragione Ale, l'ultima constatazione Scusa, mi l'hanno chiesto alcuni ascoltatori Sì, ha abbassato l'uretto Anche di parecchio Scusa, mi l'hanno chiesto Scusa, mi l'hanno chiesto